Allora, buonasera a tutti. Oggi, più che altro, più che oggi, questa sera, perché insomma saranno le sette e un quarto, quindi oggi è sera, quasi ora di cena, ci troviamo nella scuola di Bonnimonopoli, Smile Dancing School, della maestra Marzulli Angela. Grazie a tutti. Grazie a tutti e soprattutto Angela che diciamo mi ha dato la possibilità di conoscere la scuola, di conoscere questa parte che io ho sempre visto in video, perché l'ho sempre seguito e quindi ti ringrazio per avermi dato la possibilità e per aver fatto questo valore con me. Facciamo un ultimo applauso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.